Che l'ho fatta io? Io c'ho un sacco di fertilizer, quanto fertilizer che sta? Aspetta il crafto? Beh, ho fatto tre igneus, solo tre? Ah, solo ancora? Vabbè, inizia a farli per adesso Non abbiamo tin, scusa, Ulisse, non abbiamo tin No, ce l'avremo No, vado a polverizzarlo, c'è solo tin ore Non abbiamo co Non metto in polverizzazione Io contro un attimo le quest, vediamo un attimo cosa c'è di bello Nelle side quest Eh, devono chiedere le side quest qualcosa di rapido e veloce Almeno ce lo togliamo subito dai piedi Che ti ci manca? Quindi facciamo water Ok, sì, Ulisse, però io qui come faccio? Eh... Vado sotto Non lo so, Xander No, no, fatto, fatto, fatto Bagabuse pesante perché ci sono riuscito Ok, io... Cheater Stop cheating Vado, scendo troppo giù, scendo Sì, scendo troppo giù, perfetto Non va bene come cosa Poi rimetteremo la capola roba tranquilli, ragazzi E mi serve Ulisse sta facendo i danni, ragazzi Non vorrei dire niente La rimetteremo poi, quando Ulisse dice la rimetteremo poi vuol dire che ha fatto un danno che non vuole risolvere Immagino che ha fatto Mettiamo un po' di questa roba Ok, aspetta No, questo proprio dice, vado a farm Vabbè, sì, che se ne frega, ragazzi Sì, perfetto Da paura Lui fotostradica, lui è l'S Cioè, abbiamo il boss qui Ma che ne sapete voi Ok Allora, l'Ignus come li inventiamo se li buttano direttamente Sto lavorando per voi, eh We are working for you We are working for you Dopo io ho dei barrel con il potenziamento d'oro Li ho trovati un po' adesso Ma i cavi elettrici qui dove vanno? Scusate, perché questa formazione non è collegata? Perché da sotto ci sono i cavi, alcuni ci sono, alcuni non ci sono Non abbiamo le scale Sì, non abbiamo le scale quelle di ferro, tipo, belle Eccole qua, infatti Iron letter Ok E mi serviva del water Mi servono un sacco di bucket Quindi faccio un po' di bucket Io ho un bucket pieno di tutta la merda di questo mondo Bravo, list Bravo, bucket pieno di merda Così ti voglio Non la smetti di cacchiate Per non essere volgari Ok, è uscito Mi serve un pezzo di acqua Un pezzo di acqua, aspetta, eh Appena vado al bagno ti chiamo Qua c'è un tank, qua c'è un tank, l'ho preso Ok, andiamo Ah, pure mi serve un pezzo di acqua Dammi l'acqua Eh, aspetti, faccio una farm infinita qua Ho fatto, ho fatto, ho fatto Inizio, partito Ulisse, Ulisse, cobblestone Esiste Ah, no, faccio la stone direttamente, scusami Però mi consuma Ah, la stone mi consuma l'acqua però, aspetta No, ti consuma la lava, mi sembra No, l'ossidiana consuma la lava Ah, giusto Vabbè, l'acqua Madò Fai una farm di acqua, sta qua Mi sento c'è da fare la missione della È vero, dobbiamo fare l'acqua e uso accumulator Vado C'è la missione, quindi Acqua e uso accumulator Ok, io ho preso un po' d'acqua e ora vado a fare cose belle Accumulatore di energia Come faccio una piccola farm di acqua, se ti serve Non va, non va a casa Manca lo stagno Ulisse, portami un pezzetto di stagno, mettilo nello a me Lo stagno? L'ho messo a cuocere Aspetta, lo prendo io Stagno? Lo stagno, lo stagno Cosa lo prendo, lo stagno, scusa? Eh, il coso, Ulisse, mi lascia a fare il prezzo Ulisse Ulisse, hai fatti danni Cosa ho fatto? Hai mandato il team a squagliarsi al posto della redstone E' rimasto il tubo collegato Ah, ok, va bene, capita Eh, sì, ok Capita Eh, la team non può squagliarci Ok, quello lo dici tu Non ti sta mai, Ulisse Evidiamo di fare i dati Ok Allora, io vado giù un attimo Allora, poi mi lascio fare cose belle Io me la sto tagliando E poi non so Ragazzi Che stanno facendo questi tubi? Ok Uno e due Ma sto producendo stasera Poi abbiamo ancora uno qua e uno qua Mi raccomando Fate la stanza così piccolina Così almeno non avete problemi con l'acqua Eh, ok Ehi, ho gli altri generatori, Ulisse Headed red Altri, no Altri dieci Altri venti Altri mille Ok, vedete? Quindi questa qua È un'anomale pozza d'acqua Perfattuto normale Non smetti di bagabusare, Ulisse Non sto bagabusando Che stai facendo? E poi non è bannabile Cos'è sta pozza d'acqua? Non mi dico che stai facendo tutto questo Per prendere un pesce di merda? Esatto Cioè ragazzi, ci avverendete conto, Ulisse? Che disturbi mentali ha? Cioè stai facendo tutto questo Eh, io ti ho ricordato una cosa Noi abbiamo un coso Con l'acqua Tutto questo per un pesciotto, capite? Ti ricordi che c'era quello del mining sotto? Con l'acqua? Eh, Ulisse non c'ho parole, Art Se ti piacciono così tanti i pesci Ti faccio conoscere alcuni amici miei Che sono disposti a avere quel tipo di rapporti Ma non è necessario fare una vasca intera Capito? Cioè Non ho capito cosa c'entrano i pesci con i tuoi amici Tranquillo, Ulisse Hai capito, hai capito A buon intenditore e poche parole Come si dici Eh, vabbè Io continuo a staccare i cavetti Oddio, sono cascato Pucci, è un fishing rod Invar Facciamo uno di Invar Wow Cosa dici? Che è bello che picchia pure Due anni fa Eh, ci ammazzi i ragni, cavolo Non sto scherzando Ci ammazzi veramente Io invece sto riciclando i cavetti di sotto Sto cercando di capire Dove va sto cavo? Ma chi l'ha fatta sta mappa qua sotto? Ma dove sta una Ulisse, sto seguendo un cavo che Perché, perché arriva qui? L'ho preso il pesce Ah ah Eh, che cosa? È vero che la grana mi ha insegnato come si fanno i fascini In una pozza d'acqua piccolina È vero, sì Ok, va cotto Dammi una fornance, va Ok, ragazzi Andate, andate sul video di Ulisse A vedere Ulisse e il pescatore Ok, guarda che bello E c'è andato sul video di Alexander per vedere la cobblestone Che bello Mamma mia, che spettacolo Mamma mia Ok, ma tu un pesce, Alexander Ho bloccato la tua quest E comunque qui dovrebbe cuocere Hai prestato una stone? Sì, tieni Brutto ladro Ma metti la nelle me Eh, metti la nelle me Eh, cioè, certo Perché qui con la correlazione Guarda Vai in side quest C'è tipo L'ultima cosa Food mastery E io ho fatto la food mastery Bam, ho preso il tropical life Eh, buono il tropical life I live sto prendendo Sono utili, sono utili Ok, allora Mi serve pure cosa? Niente, a posto Io sto a posto così Ma i coin Dove sono i bullioni? Quanti bullioni abbiamo? Eeeh, se li ha mangiati il trattore Dei bullioni Ma se non sbaglio In victory Non in victory Monument Ma in pain to win Abbiamo due cose Abbiamo le cose del genere A 20, 20 milioni Scusa, colpa mia E quindi Ora abbiamo l'epic Facciamo l'epic Due bullioni Non so, io voglio fare dei brick Se posso fare C'erò della clay Per fare dei brick Sì, c'è uno stack di clay Alla facciaccia tua No, no, non usare Non usare Ci serve Per la missione Per la missione Non lo fa Ma la missione si va a farsi fo No, devo fare la missione Devo farci Che missione? Ah, quella del 100 clay Eh Però aspetta Forse si può craftare Eh, vediamo se si può craftare Scusami, ci siamo Siamo dei piccoli chimici Ah, è vero E vabbè Allora, no Io direi Fatti la slug Che si fa con niente La certa Fatti la roba Con la cosa qua Si fa allora Alluminio Silicon Oxygen E idroxygen Madonna mia Vabbè Vado a farmi un po' di clay Mo vengo Ma porca Allora Porca di quella barchetta Allora Perfetto Facciamo l'idrossido Idrossido Vabbè Se è giusto È ossigeno e idrogeno Più Non è che sia così Effettivamente difficile Perché l'idrogeno e ossigeno L'unico problema È l'alluminio e il silicone Se ce li hai Non so se ce li hai Sì Abbiamo il silicone Allora si È tutto idrogeno e ossigeno e silicone Quindi go go Silicon di oxy Sa buttare Vai buttate Ok Io metto qua C'è l'argilla Nel frattempo Qui Argilla Abbiamo preso la TNT Se non sbaglio Ok È alluminio Alluminio invece Da dove si prendeva Alluminio si prendeva Da qualsiasi cosa Alluminio si prende dall'alluminio È alluminio Vabbè Andiamo Il silicone ce l'abbiamo Abbiamo tutto ragazzi Ok Io invece devo mettere Un altro tubicino qui Silicon Ah no Com'era Aspetta Fa vedere Era Due Due Cinque E quattro Madonna mia Allora Due Due Cinque e quattro Quindi vi servono Cinque ossigeno anche Ok Ma lo prendiamo Cinque ossigeno Che ce l'abbiamo Non abbiamo più ossigeno Allora ce l'abbiamo Non abbiamo ossigeno Ma che stai dicendo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo No uno stacca e mezzo No uno stacca e mezzo Di argilla Sì Ok Io finirei anche la missione E allora finisci la missione Uno stacca e mezzo è tanto No ma tanto non ci serve Dice solamente fammela vedere Non gli dice dammela Ok Fatto Prezzo venti coin No anche io Anche io Questo l'ho buttato nella mese No 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 Fatta io Fatta io Anche io Scusa io Voglio riguardare se permetti Che cazzo Ah pure pesce Voglio riguardare Scusa Ok posso mettere a cuocere la clay Di serve Guarda di serve di clay Eh l'ho fatta già Però se le Che cacchia è uscito Questo è uscito Cos'è questa roba Va a vedere Lo so Questo è un secchio Eh No Ok quello che penso Fermala 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 Spegnila 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 Ha detto ragno Adesso dopo si spegne Ok E questo è Death Bar Polstaff Che cacchio ho fatto Ho riempito già Ulisse Ho fatto i danni Che cosa Bravo I cosi che abbiamo messo sola Bravo Mo toglilo Eh ma cosa Che cos'è questo schifo Death Bar Pol qualcosa Vabbè Non lo so Si chiama Ah Ah ok Raccogliendolo cambia il nome Quando l'ho raccolto Si chiama questa roba Schifosa viola Adesso si chiama DNA liquido Ah DNA liquido Per fare api Possiamo fare api E cheat bug Ma guarda che c'abbiamo un paio di cosette brutte Comunque siamo pieni di roba buona Io vorrei Si esatto Io da qui vedo mezzo tank pieno Non vorrei di niente Ma è giusto E' pieno anche un tank Quindi bisogna mettereci qualcosa Aspetta Abbiamo dei Limbar Voglio farmi un paio di cosette Per rose Boh Io so solo che qui deve cuocere la cobblestone Mi serve un secchio di lava Un secchio di lava Abbiamo delle Vabbè Ulisse Se mi rimedi un panino Però sarai contento E vuoi Un'altra cosa da mangiare Qualunque cosa da mangiare Guarda Pure un pezzo di pane Mi sta benissimo Chia Chia Uuuu Che belli Meloni sono quelli Poi tu Eh sei Sei non manco li mangio Aspetto che ce l'ho a dieci Perché sennò Aspetta ma Eeeh Bella clay dove l'hai messa L'ho fatto Ce l'ho cotta E' andata Ok Ho uno stack e mezzo di cobblestone circa Di stone Quanto ce ne vorrà qui dici? Tanta Di stone Aspetta Ah ma Ah di stone bricks è usando Ok Si hanno usato di stone bricks Tieni prendilo un po' Ok Si usavano un po' E prego Ulisse A te la spiegazione Che cacchio stiamo a fa qua Ma che è sta roba Allora stiamo costruendo la base Della nostra Ah ma poi va giù Verso giù Verso su dove vuoi portare Verso giù Presumo Ti hai fatto la cosa giù Entri a sporge solo di un blocco E tutto l'altro Il culo sta sotto Vabbè io direi Vada Riempilo tutto per il momento Tanto dunque il restante poi le mettiamo in mezzo Il centro è da 5x5 il centro Non ti puoi sbagliare È giusto Sì Ulisse però Dai Esprimi Cos'è questo Che è sto Allora stiamo creando la base Della nostra piccola Farm Della forestry E fare la farm di forestry Abbiamo bisogno di stone bricks Perché? Perché i nostri bricks Della farm Sono di stone bricks Non lo so Perché la farm Quelli che hanno scritto la forestry Sono matti E hanno deciso che Se fai la farm di stone brick Devi usare di stone brick Se fai la farm di stone brick normali Fai i brick